buongiorno a tutti cari amici fan è bene allora di parlare di wrestling wwe perché nell'ultima puntata di friday night smackdown live sono stati ufficializzati altri match per la karmes di super showdown che si terrà il 27 febbraio in terra saudita quindi innanzitutto oltre al new day vs big year kofi kingston vs demidze john morrison per i titoli di coppia di smackdown live detenuti da big year kofi kingston avremo brock lesnar vs ricochet match singolo per il titolo wwe roman reigns vs king corby in una gabbia d'acciaio steel cage quindi niente scagnozzi per uno e per l'altro e come vedete nell'immagine di copertina del video the fiend bray wyatt difenderà il suo titolo universale niente popondimeno con daman goldberg salve a tutti ci vediamo per gli altri video viva brassoli